Abbiamo premiato i vini del concorso Valorizzazione Vini e Territorio, raggiunto alla quarta edizione, che si è svolto il 13 e 14 maggio presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adice e Fondazione DUMMAC. Per la quarta edizione avevamo in gara ben 138 etichette di oltre 70 aziende e le aziende partecipanti erano del Trentino Alto Adice. Per la precisione, produttori di Teroldego, Merlot, Nosiola, Silvaner e Traminer. Il concorso ha visto queste 138 etichette in gara, giudicate da 30 commissari, di cui 18 enologi sia del Trentino sia del resto d'Italia e anche dell'Alto Adice, del due sezioni assenologi, e giornalisti provenienti da tutta Italia, che scrivono per le maggiori testate. Il concorso ha visto la partecipazione attiva degli studenti, per noi è stata una grande opportunità didattica, perché ci ha permesso di unire ai nostri studenti, che sono quasi a prendere il diploma, quindi al termine di un percorso formativo che è durato per tanti anni, e assieme ai nostri studenti, che hanno partecipato attivamente, hanno interagito con i giudici e i commissari e al tempo stesso hanno potuto apprezzare i vini del territorio. La prima azione è stato un grande evento, hanno aderito praticamente tutte le aziende partecipanti, che hanno ricevuto un premio, i punteggi complessivamente sono stati alti, e quello che abbiamo visto nelle quattro edizioni è che la qualità sta sempre crescendo, come l'interesse per questa manifestazione.